C'è stato questo momento, allora era la prima campagna elettorale di Renzi, quella che ha perso, no, era un po' di anni fa, era la campagna elettorale che ha perso, poi ne ha fatto un'altra che ha vinto, è diventato segretario del PD, poi dopo anni è diventato presidente del Consiglio, poi dopo anni è fatto il referendum e è sparito diciamo. E' sempre lì ma è sparito dai cuori delle persone che l'avevano votato alle primarie, che l'avevano votato all'europea eccetera. E lui voleva far votare i sedicenni alle primarie del PD e secondo me era una cosa, io farei votare i sedicenni anche alle politiche e al Senato farei votare i sedicenni qualsiasi cosa ci sia da votare. E secondo me era una battaglia, poi io ero sedicenne o poco più, quindi non solo a Roma ma comunque c'era, in quegli anni c'è sempre stata, nei miei anni c'era ancora molto ma meno dei dieci anni prima e adesso sarà un po' meno di quando io andavo al liceo. Però c'era una partecipazione politica molto forte e secondo me e secondo la lista del micropartito diciamo all'interno del mio liceo che rappresentavo era una cosa molto giusta. Cioè si parlava tantissimo di quanto fossero e se ne parla ancora tantissimo di quanto i partiti si rivolgessero soprattutto a un elettorato anziano, che i primi bisogni, che la prima cosa che fai per sapere che ti garantisce un elettorato è toccare le pensioni, che i giovani comunque numericamente in questo paese contano poco e quindi perché sono pochi, è un paese vecchio e quindi è un tic della politica pensare alle necessità oppure diciamo i desideri di un elettorato anziano e soddisfare quelli perché puoi attingere a un bacino di voti molto più ampio che se... quindi far votare i sedicenni un pochino in parte scardinava questa cosa perché ampliava l'elettorato giovane e io di quello ho parlato e su quello diciamo avevamo fatto una campagna anche non solo il mio liceo ma anche altri in quel momento. Mi ricordo un passaggio... Però lui ha perso quelle primarie quindi e non hanno votato i sedicenni. Grazie per aver guardato questa clip, su questo canale YouTube ne trovi molte altre provenienti da live, video vari ma soprattutto dal Breaking Italy Night, iscriviti per non perdertelo. Grazie inoltre a Tridon che sponsorizza le serate in teatro e che per l'occasione ha creato un albero ad hoc che si può ottenere solo sino alla conclusione della stagione 3 del Breaking Italy Night e per ottenere questa versione speciale di una pianta di guava che verrà piantata in Malawi per aiutare le popolazioni locali e combattere la deforestazione trovate un link in descrizione.